Carissimi amici di Santina, siamo nell'Amazonia e siamo venuti a celebrare una messa, fa molto caldo, ma vi saluto tutti, qui è bellissimo, clima di grande umidità, ma tutto bene, ciao a tutti. E non crederò che mio fiducia in te, parola vita che mi dona nuova vita, la tua parola a me, è salvezza, è lampada e mia pazza, mi guiderà per strada e nuove che non vengo intorno a me, ma io confido in te, Signor, parola viva. Grazie a tutti.